Forse l'evento era faster a le baby metal. Io appunto ho valorato la causa, addirittura ho offerto passaggi, come dire, ho offerto anche semplicemente la compagnia. E' andato male, non siamo riusciti a clascinarlo. Mi ha dato buca per colpa di un grandissimo mal di testa, sta bene, è integro e trasmette ancora, quindi lo sapete. Comunque tu sei andato a vedere le baby metal. Aspetta, diamo un po' di contesto. Chi sono le baby metal? Sono un gruppo musicale giapponese, anzi precisamente proprio di idol giapponesi. La definizione di idol giapponesi è un po' come le nostre pop band, però diciamo sono ancora un po' più specifiche. C'è un bel documentario, vero? Qual era il documentario sulle idol? Il mio cervello va veramente a caso. Faccio i collegamenti ma senza dire le informazioni utili. Non è di idol? No, non me lo ricordo come si chiama. Ora lo trovo. Vabbè, comunque, insomma, è un fenomeno musicale giapponese molto forte, in questo caso declinato con sonorità heavy metal. Le protagoniste sono tre. Tokyo Idols. Sì, Tokyo Idols. Ah, Tokyo Idols è il documentario. Sì, sì, sì. Il documentario è un po' così. Le, diciamo, ragazze, le idol effettivamente sono tre, ovvero Suzuka Nakamoto e le coriste, che è la principale, diciamo, quella che canta. Quella col microfono gelato. E le coriste che sono Moa Kikuchi e Momoko Okazaki. Hanno anche dei nomi d'arte. Certo. Sumetal, Moa Metal e Momo Metal, giustamente. Il terzo membro della formazione originale è Yui Mizuno, ovvero Yui Metal, che ha abbandonato il gruppo nel 2018 e poi è stata sostituita da uno o più ballerine di supporto. Oltre a questo ovviamente ci sono i musicisti, cioè quelli che suonano, che poi sono quelli che fanno, diciamo, la parte effettivamente molto metal, possiamo dirlo. Sì. Sì, direi di sì. In tutto ciò il connubio tra la parte, appunto, idol e effettivamente l'heavy metal, un po' veramente heavy metal nella sua pulezza quasi, è francamente interessante, perlomeno intrattenente. È sicuramente intrattenente. È sicuramente intrattenente. L'approccio, appunto, anche un po' antropologico con cui mi sono avvicinato al concerto delle baby metal è stato proprio quello di andare a vedere una cosa che, uno, non passeranno forse mai più durante il... Su questo io non... È molto complicato che un gruppo giapponese venga all'ippodromo di Capanelle così, perché c'è Giovanni Villani e Prince Faster che li vanno a vedere. Sicuramente è impossibile questo presupposto. Cosa che ha portato loro qui è il tour mondiale che le fa andare in giro da sostanzialmente maggio fino a, se non erro, sicuramente tutta l'estate, finiranno il 25 agosto in Indonesia. Ci tengo a dire che le baby metal si sono formate e hanno debuttato nel 2013. Sì. Quindi sono una decina d'anni. Non sono delle nove linee. Di più, 11 anni che stanno in giro. Anzi, se noi ne stiamo parlando adesso, un po' con il ghigno, un po' con il gomitino. Hai visto che buffa? No, veramente. Ci stiamo perdendo, ci siamo persi anche qualcosa. Sicuramente è una roba molto interessante che, in questo periodo storico, quando i Metallica fanno uscire un disco un po' strumentale per fare la comparsata su Fortnite. Fortnite. Il concerto con il palco tondo. A questo punto, divertimento per divertimento, vale tutto. E non c'è grandissima differenza tra un concerto dei Metallica del 2024 e il concerto delle baby metal. Sicuramente parto subito con la vandaia dei dati. Ah, scusami, una cosa interessante a proposito dei musicisti. Ai concerti delle baby metal, ovviamente, ci sono una band di supporto, tra l'altro, in, come si dice, anonima, nascosta perché hanno delle maschere. Sono celati, sono nascosti. E all'inizio erano semplicemente una band che fingeva di suonare gli strumenti sulla base registrata. Invece, con la crescita della popoletà del gruppo e la portata dei concerti, sono stati inseriti dei veri musicisti. E che musicisti? Che appunto rendono meno blasfemo il paragone che ho appena fatto, perché sono veramente molto, molto, molto vicini a quello che vi potete immaginare, un concerto degli Slipknot. E no, non è perché ci hanno le maschere. Sostanzialmente la discriminante tra un concerto dei Metallica, per quale motivo scegliere l'uno o l'altro, è il minutaggio, perché le baby metal, con tutto il bene, con tutto anche il curso sonorum del... Hanno fatto quattro album in studio, comunque. Eh sì, hanno suonato 71 minuti. Vabbè, quella è la civiltà. È un punto. Vedi? Scusami, perché per me le cose... Bene e male, però... Brevi, meglio è, però... Hanno suonato insieme ad un gruppo d'apertura, quindi non erano da sole, quindi il concerto nella sua interezza è durato circa quattro ore. Ah! Cioè l'apertura delle porte è avvenuta ore prima, però in scaletta ci stanno dieci, dico dieci, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, brani. Basta. Un po' poco. 71 minuti. Cosa è successo in questi 71 minuti? Cosa è successo in questi dieci brani? Beh, un tripudio di salti. Cioè era grandissimo. Ah, ovviamente è tutto coreografato. Tutto coreografato. Perché in pieno stile idol, tutto coreografato. Sì, sì. È uno dei motivi per cui vedere e andare a... Sì, c'è anche la mossetta brandizzata, quella... Sì, sì. Non sono semplici corna, sembra più... No, è tipo una specie di lupetto. Esatto. È molto vicino al simbolo distintivo dei fan di Gali. Vabbè, adesso questo non credo che abbiano comunicato, però... No, 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 però giusto anche per flexare altri riferimenti della cultura pop e dire flexare per darti fastidio, Flavia. A basso non è stato chiesto. Questo era uno dei pezzi fatti durante il concerto, uno dei dieci pezzi fatti durante il concerto. Il concerto, oltre a coreografia e musicisti veramente con grandi capacità e, appunto, loro che saltano, sompano grandi installazioni visuali, hanno anche la partecipazione di un pubblico vastissimo. E forse il pubblico è la cosa più interessante, la cosa è riduttiva, però la varietà. La... anche la... tra virgolette anche la pericolosità e la genuinità di un pubblico varissimo mi ha fatto in tutto anche un po' temere, perché pubblico vario vuol dire anche pubblico mediamente preparato, ma si è confermato il fatto che i metallari sono i migliori fan, i migliori pubblici di sempre. Basti pensare che io accanto avevo un carrozzino con un bambino di, credo, meno di otto anni, al suo primo concerto della sua vita. Volevo anche intervistarlo per portarlo... Che ne sai che è al suo primo concerto? L'ha detto, l'ha detto il babbo, mega orgoglioso. Il bimbo era stato dotato di cuffioni, pararumori, proprio perché i volumi erano veramente molto, molto, molto alti. Però sempre dieci pezzi hanno fatto, 71 minuti hanno suonato. Vabbè, perché forse dovendo ballare, magari non... Dovendo ballare, ma soprattutto, come ho detto, sono in giro da n giorni e soprattutto la data successiva a Roma è stata appunto el-fest, concerto che, se volete, potete recuperare praticamente in copia conforme a quello che ho visto a Capanelle. Ecco, scusate, al posto del gesto delle corna, utilizzano il cosiddetto gesto della volpe, o più precisamente chizzune. Vedi? Quest'ultima è accreditata da delle ragazze come l'entità divina che ha permesso loro di giungere alla ribalta. Ma che tenezza, tipo l'animale guida. Allora, su tutta questa recensione del concerto delle baby metal, stiamo omettendo tutto il contesto, il background storico di questo gruppo, che sostanzialmente fonde metal, cultura idol a... Ma tra l'altro anche molto cultura della lezione giapponese. Se voi guardate, se vi capita, insomma, di vedere un loro video, un loro concerto, loro a volte utilizzano proprio delle mosse, delle piccole coreografie che sono molto simili a quelle del teatro tradizionale giapponese. Oltre a una delle riferimenti sonori veramente diretti. E su questo vi faccio sentire proprio un brano, uno dei brani più... Anzi, il brano sei, il brano proprio al centro della playlist, della... Playlist? Sì, sì, playlist. Perché a volte sembrava essere un pochino troppo in... Non dico in playback, in pre-registrata. Però il concerto delle baby metal è stato derecissimamente un'esperienza molto interessante. Sarebbe stato straordinario vederlo con Prince Foster. Comunque c'è un album dal vivo delle baby metal che si chiama... Ce ne sono due in realtà, ma uno in particolare è Live at Wembley. Eh, sì. Nel 2016. Non stiamo parlando di... No, no, però per dire... Interessante. Altro elemento di potenza di questo gruppo, se cercate Tom Morello su Spotify... Che cosa? No, ora tutti dicono perché Tom Morello... Tom Morello su Spotify è il... Tom Morello è, lo sapete, è il chitarrista dei Rage Against the Machine e altri gruppi decisamente molto, molto forti, molto importanti, molto influenti. Tra i brani più popolari, in ordine, il più popolare di tutti è Gossip con i nostrani Moneskin. Ok, va bene, abbiamo già fatto questo discorso l'anno scorso. Sì, bla bla bla, Moneskin, ok. Il secondo brano non è un brano dei Rage Against the Machine, non è un altro brano degli Audio Slave, se non sbaglio, o collaborazioni simili, è proprio questo brano con le Baby Metal, che allaccia anche il discorso, e se siete interessati e interessate, vi porta ad approfondire questo background storico, anche di fusioni e confusione di rimandi antropologici o storici, culturali, del sostrato, anzi no, ripeto, del background storico del gruppo di Idol, che fanno intrattenimento, ma lo fanno così. Vi vedo che parte la gambina.